Siamo live. Siamo live in YouTube, è bellissimo. È bellissimo. Vero? Stupendo. Non pensavo si potesse fare, quindi. Anche io. Vedi come? Molto. Allora, siamo così tanto fortunati da avere Francesca Fiorentini, coordinatrice mondiale di Access Consciousness. Hai visto noi. Con Emanuela Siani. Abbiamo anche il ritorno della... E Alice Gabrielli. Ci siamo. Esatto, con Emanuela Siani, Alice Gabrielli, io sono Francesca Fiorentini. Grazie per essere qui. Stavamo cercando di farlo live in Facebook, ma siccome siamo donne tenaci, diciamo, noi non rinunciamo. Facebook non ci faceva entrare in live e adesso lo facciamo in YouTube. Comunque, come usare gli strumenti per mai tirarsi indietro, no? Riguardo. Allora, c'è questo meraviglioso libro che è appena stato rilasciato in italiano, Uscire dal debito Giuliosamente. L'autrice è Simone Milazas. E voi, come facilitatrici certificati di Access Consciousness, so che domani, che giorno è domani? Tra l'altro, il 3 maggio alle 6 del pomeriggio, alle 18 in Italia, terrete un assaggio online di questo meraviglioso libro, no? Sì. E quanto strano è il titolo? Comunque, perché? Uscire dal debito Giuliosamente. Il titolo è molto strano, ma soprattutto a me piace sottolineare quella parola finale, Giuliosamente, che è cruciale. Ed è cruciale in tutto il libro, ed è veramente la chiave per ribaltare qualunque situazione finanziaria. Quindi, andando avanti a leggere il libro, si capisce che la chiave cruciale è l'aspetto della gioia, non solo per uscire dal debito, ma per uscire da quel debito mentale che è la scarsità, no? Che non riguarda quanti soldi hai in banca, ma come ti senti. Tu puoi essere miliardario e comunque percepirti in debito e attraverso la gioia cambiare completamente questa realtà. Una delle cose per me divertenti, che davvero rompe tutti i paradigmi, è che una delle cose che appunto c'è, i soldi seguono la gioia, non viceversa. Quindi, iniziare proprio a creare da quello spazio cosa ti porta gioia veramente, cosa ti diverte fare, cosa ti piacerebbe creare. Non ci è stato mai insegnato, no? A creare dalla gioia, dal divertimento. Io mi ricordo anni fa feci questa meravigliosa lista di cosa mi divertiva fare. Insomma, al terzo punto ero già affaticata, ero così disabituata al divertimento della creazione. E poi, per fortuna, con questi meravigliosi strumenti, dalla gioia del business fino ad arrivare appunto al gioiosamente, ecco, smette di essere anche comodi, no? In questo debito. Le persone spesso sono comode nella scarsità o nei punti di vista limitanti. Quindi entra in quella scomodità di cosa c'è oltre. E inoltre anche, io ricordo, fin da piccola, no? Mio papà era un amministratore di beni, no? Lavorava con i fondi di investimento per grandi compagnie, ha fatto un sacco di cose. Però ricordo il fatto che quando sentivo lui parlare di soldi, di economia, di come il mondo stava andando, all'epoca, parliamo insomma di 30 anni fa, 35 anni fa, quello che era, 35 anni fa, che anche quando c'erano recessioni, anche quando c'erano scarsità, realmente non esiste, in realtà non esiste la scarsità del denaro. È solo un'invenzione, no? Per far credere agli altri, io mi dicevo, Francesca, e realmente non è così. E gli chiedono, papà, ma come dici? C'è qua al telegiornale, nei quotidiani, dicono che c'è crisi, c'è la recessione. Sì, ci sono momenti in cui l'economia va su e l'economia va giù, ma è tutto in qualche modo programmato, tra virgolette, e non esiste una scarsità di denaro, perché il benessere e il denaro sono lì. È solo la scelta delle persone. Mio papà non aveva niente a che vedere con gli strumenti di access consciousness, assolutamente. Però la visione, la consapevolezza è dire dove sta la verità e dove sta la bugia. E non è il fatto di dover combattere quella bugia e far vedere che è sbagliata. No, 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 è un'informazione che serve a noi per creare in maniera diversa, no? C'è un po' anche quello che Simone parla nel libro, molto più ampiamente. È un bel librone, tra l'altro, non è un libro sottile, è un bel librone di strumenti, esperienze, cambiamenti. E tu Alice l'hai anche tradotto, vero? Sei stata una delle traduttrici. Ho collaborato la traduzione, sì, e devo dire che solo tradurre, solo occuparmi della revisione finale, quindi leggere due o tre volte il libro, ovviamente, per poter correggere tutte le bozze. È stata forzata. Esatto, è stato, percepivi veramente il cambiamento mentre lavoravo al libro, percepivo il cambiamento nella mia realtà. E, come sempre, quando guardi alla situazione finanziaria, stai guardando a tutta la tua realtà. Perché la situazione finanziaria costituisce la struttura sulla base della quale stiamo costruendo la nostra realtà, no? Io ricordo, tanto tempo fa, una persona, non facevo access, che mi ha invitato a guardare in termini percentuali da dove arrivavano i miei flussi di entrata nella mia vita, e anche solo quello mi ha permesso di avere molta più chiarezza, no? Sulla mia realtà. Quindi, la lettura di questo libro, vi posso garantire, anche se non leggerlo, senza neanche usare gli strumenti, cambia la nostra realtà, completamente. Ma il fatto... Vai, vai, scusami, è che mi hai... No, volevo solo aggiungere che... Con quello che ricevi. Una delle cose che sicuramente ha giunto nella mia vita, per esempio, è questa collaborazione più stretta e molto creativa con Emanuela, che si è creata ormai da qualche tempo, e che mi sta dando... ci sta dando molta gioia a entrambe. Tutte le volte che ci sentiamo... è bello creare con te, no? È bello creare con te. E quindi, anche questo è un aspetto gioioso di questa particolare introduzione, perché altri facilitatori, no? Tengono... abbiamo fatto un po' quasi un movimento di queste introduzioni. Sì, ce ne saranno tanti altri, sì. Voi siete le pioniere un po', no? Sì, sì. Che avete detto, no, no, la voglia fuori subito, subito. Sì, poi anche ce ne saranno altre, il piacere di aggiungere sempre, no? E quindi, come creare una nuova realtà finanziaria immediatamente, con tutto questo tsunami di cambiamento, e soprattutto, soprattutto, cosa ci vorrebbe che questa fosse una possibilità grandiosa per fidarci di quello che sappiamo, no? Quando parlavi di tuo padre, mi viene in mente quanto era quello che appare, quanto è stato disposto a essere presente a ciò che era vero per lui, no? Nonostante le informazioni, il momento storico. E allora, che cosa puoi creare oltre le ragioni folli, le giustificazioni che abbiamo intorno al fatto di non creare e non avere soldi, no? E quindi di fidarci di quello che sappiamo, proprio ora, io penso che questo libro in questo momento è veramente uno stradono, proprio... È un grande dono. Perché rompe tutti i paradigmi di tutto questo momento, dove la gente continua a dire ho perso il lavoro, no, 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 quello. Cosa è veramente possibile ora, che non era mai stato tutto? Proprio in questo momento. È completamente nuovo, anche in quest'anno. Esatto. E soprattutto, quello che noto io alle persone, magari, postano in Instagram, in Facebook, oh, un anno fa questo è successo e sembra che un anno fa ci fosse una felicità che adesso non c'è, no? E invece, lo so che non è un momento facile, però stiamo creando un mondo totalmente diverso. Adesso abbiamo veramente la possibilità. Le basi per una felicità più grande. Esatto, per una felicità più grande. Io, quando ho iniziato, quando ho abbracciato gli strumenti di Access Consciousness, veramente non avevo una carta di credito. Veramente, ricordo ancora, ultimamente parlavo con il mio compagno e dicevo, ho questa memoria che per me andare e prendere da Venezia un treno per Milano, che mia sorella lo faceva un paio di volte al mese, per andare a vedere i negozi. Non è detto che comprasse chissà che, però già era l'idea di prendersi un treno, andare a Milano, ingiornate, tornare indietro e non so, costasse, penso che costasse 50, 60 euro, andate e ritorno. Per me, comprare quel biglietto di treno, per me e mia figlia, non era una scelta accessibile all'epoca. Ma non era tanto perché non avessi realmente i soldi, era che io non l'avevo scelta e, al momento, non avevo i soldi. Io, quante volte avevo usato la giustificazione della mancanza di soldi per poter creare la mia vita. E quando ho incominciato a abbracciare gli strumenti di Access Consciousness, un po' in questo mondo fatato, no? Perché tutto è possibile, però era veramente tutto possibile, perché c'ero io. Che cosa desidero creare? E ho cominciato a usare tutti gli strumenti di Gioia del Business Access e di Simon Milasa, che è stato il libro precedente che ha scritto, no? Prima di uscire dal debito gioiosamente. Vari altri libri di Gary Douglas, che è il fondatore di Access Consciousness, e Dr. Dan Heer, che sono i co-creatori. E non mi ero imposta di non usare più i soldi come una giustificazione per non creare la mia vita. Perché quanti di noi che stanno ascoltando adesso usano i soldi come giustificazione per non poter creare un futuro diverso? E anche se lo state facendo, va bene. Però come sarebbe che rendersi conto e veramente essere disposti a vedere dove stiamo scegliendo questo, potrebbe essere la possibilità differente, no? Io veramente ho cambiato la mia vita, totalmente. Adesso parlo mezzo in inglese, mi in italiano. Ma se dovessi guardare ogni momento, ogni passo dopo passo, il fatto di incominciare a essere consapevole di cos'è la mia situazione finanziaria, come hai detto tu prima, come avete detto entrambe, ha cambiato totalmente, ed essere brutalmente onesta con me stessa. Cioè questo è stato uno dei doni più grandi che potessi mai ricevere. E questo libro, io fortunatamente parlavo inglese, dunque sono riuscita a leggerlo ancora prima, ho seguito altri corsi, e ancora di più, cioè è come se poi entri in una grande onda che ti porta e continui a creare sempre più grande, no? Ma hai notato anche tu leggendo il libro che ha proprio questa cosa che diventa irresistibile. Tutto quello che hai resistito prima, dici ok, ormai è andato, non posso fare niente. Ricordo la prima volta che sono andata in Australia per un corso prolungato di Access, che è stata proprio quella la scelta, ha detto ok, va bene, qualunque cosa succeda, io vado. E con questo libro è quello che succede. Quando, mentre lo leggi, è come se ti trovassi su un toboga con l'acqua e non ci sono i freni. Ormai devi andare, non puoi fare altro. E quindi, se il tuo punto di vista crea la tua realtà finanziaria, se non fosse per i soldi cosa sceglieresti, cosa è veramente possibile fare, no? Come diceva Francesca, prendiamo spesso la fonte della creazione unicamente come il denaro. E se fossimo noi quella fonte, e se fossimo disposti a rinunciare ai punti di vista che tengono in piedi questa realtà, che diciamo di voler cambiare, e allora ecco la magia di questi strumenti smantellano tutti quei punti di vista che oggi stanno creando la tua realtà con i soldi. Esatto. E anche io sono stata, Simone racconta, no? Che quando prima di conoscere Simone Milassa, l'autrice, la scrittrice del libro, espone molto chiaramente il fatto che era in 187 mila dollari australiani in debito, sì. australiani in debito all'epoca, e il fatto di essere così onesti con se stessi, perché anche io quanto sono stata in debito? Ma poi c'è un, non dico che c'è un perché, dobbiamo scoprire il perché, perché il perché lo sappiamo, però c'è qualcosa che in qualche modo ci fa sentire a nostro agio con quello, no? Ci rivediamo, ci riconosciamo, ma veramente è adesso il momento per cambiare tutto questo? Che tu non abbia 187 mila euro di debito, me lo auguro, o che tu ne abbia un miliardo, o che non ne abbia neanche uno, ma è adesso il momento per cambiare la realtà economica, la realtà con i soldi. Una volta Gary Douglas, mi facilitò in una classe, il fondatore di Access Consciousness, e mi disse quanto sei disposta a essere poco grata per tutto quello che non hai ancora creato, e quanto non sei disposta a essere grata e partire da lì per tutto quello che hai creato finora? La gratitudine come ingrediente di creazione. Gran parte di noi siamo sempre lì a cercare di tirarci fuori da quel buco, senza stare a guardare quello di cui siamo stati capaci, quello che abbiamo creato, no? E tutto il focus lo mettiamo sempre, come dire, in un'unica direzione. Mi manca ancora questo, 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 questo non l'ho recato. Ok, come sarebbe se partissimo intanto da quello che abbiamo già creato? Oh, qua stiamo dicendo anche un po' troppo. La vostra classe inizia domani, no? Basta, esatto. Avesse il pomeriggio, mi sa che stiamo altro. È proprio il fatto di... È veramente piacevole che ci sei, uno va. Sì, sì, no, di solleticare, no? Le persone, come dire... Esatto. E tu sai. Poi è talmente accessibile. Avete fatto un prezzo, tutti i facilitatori dell'Italiana hanno fatto un prezzo veramente molto, molto accessibile per questo, che sono appunto 75 euro, giusto? Sì. Per questo... Sì, sì, molto accessibile, assolutamente. Proprio per uscire. Molto accessibile anche... Esatto, per uscire, ma anche per me è come ricevere il contributo di chiunque sceglie questo, in questo momento. Sì. Che è proprio... È onorare, no? Chiunque, onorare il momento e vedere che cos'altro... Possiamo creare tutti insieme. Sì. E io... Allora, quando ho incontrato... Quando ho veramente scoperto gli strumenti di access consciousness, per me ho avuto un... Come un... Non era un abbaglio, era finalmente, chiamiamola così, una rivelazione, ma non era neanche una rivelazione. Era finalmente qualcosa che mi stava rendendo libera. Non dovevo più essere giusta nella vita. Non dovevo più essere conforme alle regole. Potevo essere me. E so che questo può sembrare molto... Cioè, un argomento un po'... Uno scoglio molto grande per tanti di voi che magari state ascoltando, che non sapete neanche cosa di cui stiamo parlando. Ma è possibile. È molto più facile di quanto pensiamo. Perché il fatto che ci hanno cresciuto, no? Che bisogna... Per poter creare una situazione economica brillante, bisogna sudarsela. E per lavorare, bisogna sudare. E bisogna sacrificarsi. E se ci fosse qualcos'altro di totalmente diverso, accessibile per ognuno di noi? Sì. E se vi risulta... Se cominciasse a scoprirlo domani alle 18. Dai! Non vediamo l'ora. Unite mia Emanuela e Alice domani alle 18 ore italiane. E come siamo onorati, Franci, che hai fatto questo ingresso, questo benvenuto. Grazie mille. Sono io onorata, Manu, veramente. Grazie mille, grazie a tutti. No, grazie a voi. E come diceva Alice, la possibilità di co-creare insieme ad altri è uno dei doni più grandi, no? Io, quando sono entrata in Access Consciousness, voi eravate già, diciamo, più esperte di me. Io ero veramente all'inizio e tutto. dopo nella carriera del lavoro, ultimamente sono diventata la coordinatrice mondiale. E, cioè, io sono onorata. Perché come sarebbe che non ci fosse differenza in nessuno, ma siamo tutti il grande contributo. E il contributo cos'è? È il fatto di donare e ricevere lo stesso momento, no? Sì. Grazie mille. Grazie. Magari domani salto nella vostra... Oddio, che ore sono nella vostra classe? Sì! Sì, sono benvenuta. Tipo le tre del mattino per me? Sì, sarò le tre del mattino per te, ma se sei sveglia, se vuoi farti cinque minuti con noi, saremo più che onorata. La potrei fare verso la fine. Che tanto il lunedì ce la potrei fare. Perché sono in Australia, perché, come dire, di cosa stai parlando? Non sono in Italia al momento. Sono solo qualche ore di... Come si possono registrare le persone? Lo mettiamo sul link sotto? Lo mettiamo sul link sotto? Te lo mando immediatamente, Franci. Te lo mando su WhatsApp, così lo puoi aggiungere. Bene, bene. Bene. Una cosa, solo gli ultimi due minuti. Gli ultimi due minuti. che cosa avete ricevuto voi dalla vostra situazione economica da Access Consciousness che prima di Access Consciousness non era accessibile? Molto sintetico. Io posso dirlo molto velocemente? Sì, per me stessa. Due case. Ah, bene. Con questo libro sono diventata over milionaria. Quindi posso dichiararlo. Yeah! È la cosa che ho detto a Simone la prima volta che l'ho incontrata, finito di tradurre questo libro. Le ho detto, sono diventata... ho superato le proprietà di un milione di euro e lei ha detto... e le ho detto, devi scrivere altri libri perché devo farne altri. E lei ha detto, allora traduci il mio prossimo, relazioni fatte in un modo diverso. Certo! E adesso lo sto traducendo. fantastica. Fantastico. Per me è assolutamente includermi nell'equazione. Tendiamo sempre a creare per qualcun altro, qualcos'altro e quindi è veramente tanto se scegliessi me cosa mi divertirebbe creare e questo ha creato molto di più, naturalmente. Bene. Non scegliete questa classe? No, esatto. Potrebbe cambiare la vostra situazione finanziaria? Ma al di là dei soldi, no? Perché pensiamo tutti... No, perché è qua dentro che cambia. È proprio qua dentro che cambia. È cambi qua. Io ricordo ultimamente... È proprio respirare. Io non so, non so come dirlo diversamente. È proprio respirare. Che tu senti di poter respirare. Non è quella sensazione, perché io la conosco e so che tanti la condividono, che ti svegli la mattina e hai già l'ansia e stai... Cognitivamente non lo sai, ma stai già pensando al tuo conto corrente. È quella cosa che va via. È che ti svegli la mattina e sei felice perché ci sei. È quella cosa lì. Come sarebbe avere un piacere di pace con tutto questo, davvero. Cosa altro è possibile. Bene. Allora mi sa che mi devo... vi devo... In qualche maniera devo entrare a sorpresa nel vostro Zoom. Darei veramente un grandissimo... Fate la vostra classe che fate domani, giusto? Sì, sarebbe davvero un gran regalo. Sei del pomeriggio in Italia. Le sei diciotto. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie a Manuela. Grazie a Francia. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao.